Grazie a tutti. Il film in onore a Dio di Paolo Taviani cofinanziato dalla Sicilia Film Commission, unico film selezionato in concorso, verrà proiettato al festival martedì prossimo, girato fra Agrigento, Catania e Siracusa e incentrato su vicende legate a Pivandello, con maestranze per lo più siciliane. Sicilia Film Commission ovviamente promuove sia la filiera dell'audiovisivo in Sicilia, quindi le professionalità sia tecniche che artistiche e soprattutto con le storie che finanzia, con i film che finanzia, intende promuovere ovviamente il territorio, la cultura e i paesaggi siciliani anche a fini cine turistici. In questo film ci sono anche molte maestranze che vengono dalla Sicilia? Sì assolutamente, sia dal punto di vista degli attori sia per quanto riguarda il cast tecnico, perché ovviamente quando i film entrano in graduatoria hanno un punteggio che varia secondo quello che è il piano di produzione, quindi hanno un punteggio maggiore quei film che hanno attori e maestranze siciliane. Io credo che sia uno dei più grandi riconoscimenti che Sicilia Film Commission ha avuto da quando opera. Tra i protagonisti l'attore siciliano Fabrizio Ferracane.